Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A1 fare attenzione per un veicolo fermo o in avaria, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisare e Gello, in direzione Roma, sulla Fipilì, ci sono veicoli lenti tra Pisa Centro e Gello, in direzione del Bivio Firenze e Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Firenze in Pruneta e San Casciano Nord, in direzione Siena. Sulla statale un'Aurelia chiusa una corsia per lavori prima del Bivio per San Vincenzo Sud. Sulla statale Trebis-Tiberina fondo stradale dissestato nel tratto compreso tra Val Savignone e San Carlo, in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!